Stefano Ballestero, questa mattina non si poteva giocare al Dorondona di Ponte Decimo, partita sospesa. Sì, sicuramente la partita avremmo potuto portarla anche in fondo, ma non era una partita di calcio, era una partita di palla nuoto. La palla rimbalzava, ma non strisciava. E allora, d'accordo tra le due società e l'arbitro, ben che ne arrivasse da Savona, abbiamo deciso di sospenderla. Una partenza falsa per la Pro Ponte Decimo? Molto falsa. Siamo rimessi in calreggiata, ma è dura, è ancora lungo il campionato, però quelli fuori dai play-out sono distanti e dovremo inanellare una serie di vittorie che probabilmente non ne abbiamo, né la capacità né la forza, ma cerchiamo di fare il massimo. Abbiamo avuto un sacco di infortuni gravi, abbiamo 7-8 giocatori fuori per tutto l'anno e di conseguenza giochiamo con un portiere del 99 e uno un panchina di 45 anni. Per il salto di categoria chi è il favorito? Sicuramente la stella Sestrese e la nuova regina che è la rivelazione, secondo me, di questo campionato.